Ancora una volta si registra nel Salernitano un episodio di violenze e criminalità in pieno giorno e in pieno centro cittadino. Questa volta momenti di paura sono stati vissuti domenica pomeriggio sulla litorania di Ponte Cagnano-Faiano. Residenti e commercianti hanno assistito a quanto accaduto. Un uomo del Gambia è stato ferito con dei cocci di bottiglie di vetro da parte di tre persone. Si tratta di tre uomini di origini albanesi che sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Battipaglia con l'accusa di tentato omicidio in concorso. La missima infatti ha riportato numerose ferite anche molto gravi, tanto che è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. I tre uomini arrestati sono ristretti nel carcere di Salerno-Forni.